Musica Accordo su nome lontano ma intesa vicina sul programma nel centro-destra dopo l'incontro di ieri a Cagliari l'impressione che il candidato verrà fuori dal tavolo nazionale, nel centro-sinistra si prova a ricucire tra solo e la todde Dopo l'inaugurazione dell'ufficio di prossimità Forza Italia esprime soddisfazione e ringrazia l'ex assessora Giovanna Caria che ai nostri microfoni ricorda i passaggi per arrivare all'obiettivo concretizzato in questi giorni Motori protagonisti del weekend algerese con la quinta edizione del Formula Challenge Rivera del Corallo presentato questa mattina a Porta Terra, appuntamento al Cartodromo e non più nel Piazzale della Pace Un saluto a tutti voi, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la politica, la politica regionale perché il centro-destra per ora viaggia compatto anche dopo l'incontro di ieri nel quale tuttavia non si sarebbe parlato di nomi nel centro-sinistra invece proseguono i tentativi di riavvicinamento tra l'aria che sostiene la todde e quella che invece appoggia l'ex governatore Soru Non è stato fatto alcun nome ieri nel secondo vertice del centro-destra tenutosi all'hotel Flora di Cagliari ma qualcuno ha ribadito le proprie posizioni Non siamo solo numerosi ma anche molto più rumorosi di quanto alcuni possano credere ha detto ieri il centrista Antonello Peru con riferimento alle recenti dichiarazioni del governatore Solinas sul fatto che gli oppositori alla sua ricandidatura fossero più rumorosi che numerosi Dalla Lega invece hanno ribadito che la coesione non può prescindere dalla ricandidatura di Cristian Solinas e ovviamente così la pensano nel Pisdaz il partito dell'attuale presidente Intanto però ieri si è parlato di programma e dei possibili temi portanti in vista della campagna elettorale nonostante i dubbi della vigilia c'erano anche i rappresentanti sardisti e quelli del Carroccio Il prossimo incontro servirà per fare sintesi con il coinvolgimento delle segreterie ma il lavoro è stato proficuo ha detto poi Fausto Piga, capogruppo di Fratelli d'Italia Ora il centrodestra si rivedrà martedì per provare a chiudere sul programma mentre sul candidato l'impressione che si dovrà attendere il tavolo nazionale Diplomazia è sempre a lavoro nel centrosinistra invece per cercare di ricucire lo strappo tra l'area che sostiene Alessandra Todde e quella che invece si rifà Renato Soru I tentativi sono finora caduti tutti nel vuoto Ieri ci sarebbe stato un incontro tra PD e progressisti ma al momento nessuna novità concreta Tra l'altro proprio i progressisti nei giorni scorsi hanno rilanciato sulle primarie depositando una proposta di legge primarie che continua a chiedere Soru che nel frattempo prosegue la sua campagna elettorale in giro per la Sardegna Veniamo ora da Alghero, torniamo all'apertura dell'ufficio di prossimità Un progetto proposto nel 2019 e sostenuto e condiviso dall'ex assessora Giovanna Caria che si è attivata per costituire la rete fra comuni limitrofi ricordano da Forza Italia e proprio l'ex esponente dell'aggiunta comunale ai nostri microfoni non nasconde la propria soddisfazione Ad Alghero la giustizia si avvicina ai cittadini così in una nota Forza Italia ha espresso la propria soddisfazione per l'apertura dell'ufficio di prossimità sottolineando l'impegno in tal senso dell'ex assessora Giovanna Caria così come peraltro fatto da Marco Teddi ora consulente dell'assessore regionale Fasolino in occasione dell'inaugurazione Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto grazie al Presidente Tribunale, al Sindaco a tutti quelli che comunque hanno dato un contributo fattivo non ultimo, anzi prima l'ex assessora Giovanna Caria che ha seguito il procedimento a origine e l'ha portato a compimento e l'ha portato a compimento riuscendo ad arrivare prima o meglio facendo arrivare prima il progetto su 27 progetti quindi questo è un risultato di grande significato e chiudo ringraziando anche il Vice Presidente Fasolino non soltanto per questo progetto ma soprattutto per l'impegno che ha posto in quest'ultima variazione di bilancio a favore del territorio di Alghero E proprio l'ex assessora Caria non ha nascosto la propria soddisfazione intanto per le parole dell'ex sindaco Ted e dell'assessore Fasolino poi per aver visto concretizzarsi un progetto che ha mosso i primi passi nel 2019 Sì, grande soddisfazione intanto ricevere il plauso dell'assessore regionale Fasolino dell'ex sindaco Marco Ted che arriva perché io fin da subito ho creduto nel progetto è un progetto che vede il Comune di Alghero Capofila con altri comuni che all'epoca facevano parte rientravano nella competenza territoriale del giudice di pace e che rientra nell'ambito di un obiettivo più ampio del Ministero della Giustizia che ha finanziato questo progetto e che mira a rendere la giustizia più vicina al cittadino come? Realizzando appunto questo ufficio di prossimità che logisticamente è collocato in via Catalonia 52 vicino all'attuale anagrafe per ragioni logistiche si è voluto che fosse istituito in quella zona perché è più accessibile al cittadino e quindi mira ad assistere la fascia più debole dei cittadini in quanto si occupa di dare assistenza rispetto a materie quali tutela, curatela e amministrazione di sostegno quindi stiamo parlando di volontaria giurisdizione per tutte quelle attività in cui non è necessaria l'assistenza del legale per cui il cittadino può recarsi all'ufficio di prossimità e ottenere questo tipo di servizio è un progetto che ho sempre ritenuto e riteniamo che sia valido e che può essere implementato questo ci è già stato anticipato dall'assessore Fasurino ecco proprio in vista sempre di un migliore servizio a tutela dei cittadini la cronaca ora per riferire del brutto incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale 42 la strada dei due mari tra Alghero e Porto Torres all'altezza del chilometro 12 nei pressi di Campanedda un pick up bianco è finito fuori strada ribaltandosi più volte il conducente, un 31enne sassarese è stato sbalzato dal posto di guida finendo qualche metro più avanti riportando un forte trauma cranico sul posto è intervenuta una medicalizzata del 118 che ha trasportato d'urgenza il 31enne in ospedale oltre ai vigili del fuoco di Alghero e gli agenti della polizia stradale di Sassari che hanno eseguito i rilievi il giovane ora si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva del Santissima Annunziata di Sassari Proposti dall'Associazione Culturale Cabirol con la regia di Carlo Iba fino al 15 dicembre nella piazzetta Sociu adiacente alla piazza Pino Piras ci sono una serie di appuntamenti in programma legati alla manifestazione Alghero in piazzetta nell'ambito del calendario degli eventi del Cadeanno organizzati dalla fondazione Alghero il progetto prevede una serie di eventi che riguardano l'artigianato la pittura, la musica e la divulgazione della cultura e della lingua algherese ne hanno parlato ai nostri microfoni il presidente dell'Associazione Culturale Cabirol Giovanni Chessa e appunto Carlo Iba Alghero in piazzetta con Carlo Iba e Giovanni Chessa che è il presidente dell'Associazione Culturale Cabirol partiamo con Giovanni di cosa si tratta? Alghero in piazzetta è una manifestazione che avevamo organizzata in collaborazione con Carlo Iba e Franco Scognamillo per valorizzare la tradizione del locale Carlo Ara vi spiegherà tutte le iniziative che sono e l'abbiamo fatta perché è un modo per valorizzare quel rucco dell'Algheveglia del centro dell'Alghe e abbiamo tante attività che Carlo vi spiegherà è la scuola del 13 e il 15 di dicembre sono attività diverse tra le quali alcune che hanno un significato anche sociale come l'audito dell'inaugurazione come ha detto Giovanni Carlo Iba è quello che insomma un po' dirige il tutto parliamo allora poi degli eventi specifici primiti che intanto abbiamo scomanzato già del 13 del 15 mese abbiamo una manifestazione a livello a livello local sempre abbiamo canzoni di Alghe e leggo anche sui laboratori che sono una peculiarità Giovanni Mura per quanto riguarda la nostra balza a Maracana e via discorre è Paolo che costruisce Balcas e sono io che vabbè io faccio il pittore il pittore l'ombretta te la sa Dio da me è autore delle canzoni perché grazie a Dio che chi cosa la sepa scrivere ancora e e che c'è cosa è snara sagù al bar al caffè ma ma scompagnosi di sempre avevano disseriti di provare a portare in prassa agli occhi che sappiamo che finchere a Dio e quindi è snara che c'è cosa l'utresa avevamo scomanzato a stanza il canto di posare tra un evento e l'altro piccole manifestazioni l'UVIT si gara un flash mob in prassa soggio e la cosa bella se si arragissi a portare a compimento è l'UDEU che è il laboratorio di pittura solo per creature quindi si parla dell'istituto comprensivo comprensivo anzi comprensivo numero 3 dove i milioni si apposano a pittura i figli che fanno sempre e speriamo che ci sono cose amici di tantissimi altri porti la gente a venire come ha detto Giovanni anche il bussino di prassetta che è lasciato all'oblio di EMC torna anche quest'anno il regalo in sospeso è la quarta edizione di questa iniziativa lanciata durante il periodo della pandemia il concept lab di Sider in via Mazzini 88 lo spazio che unisce i servizi educativi a un vero e proprio shop come tutti gli anni sposa un'area del TAC che si occupa di solidarietà in ambito sociale e insieme a tutta la rete di commercianti aderenti all'iniziativa porta avanti questa proposta nel 2023 in questo 2023 la collaborazione con la comunità per minori gestita dalla cooperativa Il Sogno a Sassari trovando la locandina esposta all'esterno di un'attività commerciale si potrà decidere di acquistare un prodotto da lasciare in sospeso oppure depositare del denaro nel salvadanai che verrà anche adesso trasformato in prodotti da donare che saranno distribuiti prima di Natale offrendo la possibilità ai destinatari di poter scartare dei doni sotto il proprio albero l'iniziativa mira a raccogliere quei beni secondari che arricchiscono la vita stessa come ad esempio un giocattolo un prodotto cosmetico ma anche un libro o un servizio perché le forme di povertà possono essere diverse resta la centralità del garantire il diritto ad avere un pasto a disposizione ogni giorno ma a Natale vogliamo dare attenzione anche alle povertà di ogni genere promuovendo la cultura la cura per le proprie passioni e interessi offrendo così un'occasione alla persona di elevarsi aprendosi a nuove prospettive al di là delle sue condizioni attuali sottolineano dallo staff del concept lab di Sider e ora lo sport con il quinto formula challenge riviera del corallo il prossimo fine settimana al Ghero ridiventa capitale sarda e nazionale dell'automobilismo sportivo tutto è pronto per la tradizionale manifestazione motoristica di chiusura della stagione agonistica dell'automobilismo sardo e prova finale anche quest'anno del campionato italiano della specialità questa mattina a Portaterra la presentazione sentiamo intanto le parole del sindaco Mario Conoci e della vice sindaca e assessora allo sport Maria Grazia Salaris sindaco e vice sindaca un appuntamento importante un altro appuntamento sportivo importante nella riviera del corallo si è l'appuntamento che diciamo chiude l'anno insieme agli eventi di fine anno del capodanno di Natale siamo arrivati alla quinta edizione del challenge riviera del corallo quest'anno si trasferisce presso il cartodromo quindi in un ambiente più consono diciamo a uno sport motoristico sicuramente molto partecipato e molto atteso è uno degli appuntamenti importanti degli sport motoristici che si svolgono nella nostra città sicuramente ci sarà una grande partecipazione una grande organizzazione del team Alghero Corso del presidente Torebello insomma un evento sportivo importante in un momento della stagione che è necessario riempire di eventi qualificanti questo è un campionato italiano mi pare davvero di poter fare i complimenti al team Alghero Corso al suo presidente a tutto il suo staff assessora Salaris un appuntamento sportivo importante per promuovere la città sì Alghero ancora una volta si dimostra capace di ospitare grandi eventi motoristici questa è la sua quinta edizione oltre appunto a ringraziare il team Alghero Corso diciamo che saranno numerosi partecipanti circa 60 che ovviamente muovono anche una buona fascia di turismo e di turismo sportivo quello sul quale la nostra città deve continuare a puntare soprattutto nei mesi di spalla per proseguire una stagione e per far sì che ci sia proprio continuità nel mese di dicembre ovviamente prima di tutti gli eventi di capodanno rappresenta una bella apertura sentiamo ora invece le parole del presidente del vicepresidente del team Alghero Corso Torebello e Pier Vittorio Farris Torebello e Pier Vittorio Farris torna un appuntamento che sta diventando insomma ormai classico per Alghero Sì è il nostro appuntamento annuale speriamo il prossimo anno di poter mettere in calendario un'altra garetta importante stiamo pensando di sviluppare questa manifestazione con almeno due partecipazioni all'anno per adesso ci manteniamo questa che è il quinto challenge di campionato italiano e poi vediamo un po' avanti come proseguire anche perché il team Alghero Corso ha bisogno io quest'anno faccio dieci anni di governo di questo meraviglioso team che esiste dal 1983 e sono contentissimo di aver portato avanti questo sodalizio nel positivo assolutamente E Vittorio ci si sposta dal centro al cartodromo? Indubbiamente non proprio cercato e voluto da noi ma in quanto neanche a causa della ruota panoramica perché faceva spettacolo e ha fatto tanta cioè ha portato tanta gente anche per vedere la città dall'alto però siccome noi abbiamo degli impegni degli impegni di scadenza con la federazione per essere sicuri abbiamo detto dirottiamo un po' sulla pista del corallo così non perdiamo la titolarità e diamo sempre spettacolo e teniamo in piedi il team Alghero Corso nel mondo sportivo La gara sarà sempre la stessa? La gara è sempre la stessa il percorso del cartodromo è 700 metri più lungo è proprio una pista adatta per gli sport e per tutte le macchine che fanno la salita è una nuova una nuova cosa dico profa di coraggio del team Alghero Corso perché qui ad Alghero eravamo in casa avevamo tutti quanti il patrocinio del comune della fondazione Alghero ed era tutto insomma non c'erano problemi lì abbiamo dovuto riaffrontare tutti quanti i problemi di sicurezza di collaudi di suap di tante cose perché era una pista nuova non collaudata per le gare di auto Tore comunque ci si aspetta un successo anche per questa gara sì come sempre assolutamente non abbiamo dubbi su questo punto di vista io vorrei ringraziare sempre l'appoggio del comune di Alghero della fondazione e di tutti gli sponsor che ci sostengono in tutti questi anni e che veramente in periodi veramente di 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 crisi come si suol dire riusciamo a mantenere e a mandare avanti queste attività spazio anche al direttore sportivo del team Alghero Corso e Paolo Frailis e poi sentiamo anche le parole del direttore di gara Guido Omode il direttore sportivo del team Alghero Corso è il direttore di gara che gara ci dobbiamo aspettare? per me penso una gara buona anche se abbiamo spostato la location va bene lo stesso perché è sempre una pista grazie a Dio siamo riusciti a farlo collaudare con l'aiuto di tanti e il nostro presidente che si è interessato io non posso parlare tanto di soldi perché sono un direttore sportivo senza portafoglio quindi sicuramente non posso fare più di questo però sono contento di stare con loro perché è una bella famiglia diciamo che andiamo avanti così fin quando si può l'unica cosa ad Alghero avevamo sicuramente centro di Alghero un po' di pubblico in più speriamo di averlo anche qua questo è importante speriamo di avere pubblico anche al cartodromo per una gara comunque che si pronuncia spettacolare sicuramente perché è l'ultima gara di campionato italiano e quindi si giocheranno i primi tre adesso in classifica ci giocheranno il campionato qua vengono tutti dal continente vediamo la gara lì sul cartodromo per me direttore gara è un attimino un po' più sicura parlandoci proprio se dobbiamo parlare della sicurezza perché appunto è una pista creata appositamente mentre invece sul piazzale della pace dovevamo creare la pista artificialmente in più questa pista qua praticamente è quasi il doppio come distanza e quindi i ragazzi sicuramente si divertiranno a proposito di sport non è stato un weekend positivo per le due formazioni pallavolistiche algeresi la Web Project sotto rete ha perso 3-7 a 0 contro la San Giuseppe Virtus nel match di domenica scorsa di Serie D il coach della Web Project sotto rete Fabio Guido ha sottolineato la mancanza di esperienza come uno dei fattori chiave della sconfitta poi riconoscendo l'impegno dei suoi giocatori ora attenzione rivolta al prossimo match contro la Silvio Pellico per quanto riguarda invece le ragazze anche la Pallavolo Ginnasium Algero ha ceduto 3-0 ma contro il VBC Mako Merri i parziali raccontano la storia di una gara in cui la Ginnasium ha avuto dei momenti positivi che non è riuscita però a concretizzare dobbiamo riflettere sugli errori commessi su come possiamo migliorare la nostra resistenza sotto pressione ha commentato l'allenatore Pasqualino so già il potenziale c'è ma dobbiamo tradurlo in risultati concreti prima di lasciarci ricordiamo un appuntamento in programma questa sera e non solo sarà la signora Antonina Fanis Ciampelli Ciantonica l'ospite della decima puntata della trasmissione Mikas De Viralgarese ideata e condotta dal giornalista Michele Serra per la regia di Roberto Lampis in questo nuovo appuntamento che andrà in onda questa sera alle 21.15 in replica sabato alle 12.30 sul nostro canale la signora algerese racconta aneddoti e fatti del secolo passato vissuti nel centro storico di Alghero ai microfoni di Mikas De Viralgarese regala alcune chicche dei tempi passati tra emozioni e sorrisi recita preghiere una canzone in lingua algerese più sconosciute dei suoi racconti si percepisce quanto la vita di allora non sia stata agevole ma era sempre la famiglia il perno attorno al quale ruotava tutto e per oggi è davvero tutto io come sempre vi lascio le previsioni del tempo per domani grazie per essere stati con noi e arrivederci grazie a tutti